E allora il patto della giustizia diventa, è stato in questi anni, il luogo al cui noi abbiamo attinto, ci siamo rivolti per affrontare insieme in un'ottica comunitaria le questioni della giustizia. Dall'altra parte, dal nostro punto di vista, abbiamo avuto un obiettivo, una missione, di rendere la giustizia bolognese non una istituzione astratta, lontana, escludente, ma una istituzione nella quale il cittadino potesse pian piano cominciare a riconoscersi e con la quale dialogare in maniera meno difficile.